Sono Cini Flaminio, presidente onorario della Camera Italiana dei Buyer della Moda, è un'associazione che raccoglie le più importanti boutiques d'Italia, l'associazione è nata nel 2000 e adesso con il presidente Beppe Angiolini del Sugar di Arezzo. Io mi occupo pure di commercio, ho un negozio a Magenta, la Tony Boutique di Magenta, in cui opero con un po' tutte le griffe italiane, le griffe internazionali e con tutto il prodotto dello styling italiano specialmente. Credo nella trasversalità dei negozi che devono presentare il tutto, il meglio, dal food a ricerca, a occhiali, a accessori, a fiori, a varie situazioni, per dare un servizio sempre migliore ai clienti. Quello che predico è quello di cercare di trovare il bene in Italy, di trovare tutte queste iniziative che abbiamo noi in Italia, questa creatività che abbiamo noi in Italia, che sicuramente è la migliore del mondo.